L'assessore alle politiche giovanili Giorgia Latini ha convocato il territorio rappresentato da comuni, associazioni giovanili e terzo settore, mondo della scuola, università, sindacati e conferenza episcopale marchigiana per un confronto ampio e approfondito favorendo l'emersione dei bisogni, delle proposte e delle idee per le politiche giovanili. Iniziamo numerosi e con entusiasmo questo momento di ascolto per supportare i nostri ragazzi, coinvolgerli, raccogliere le istanze e renderli attori attivi della società, così l'assessore Latini, un incontro importante per una tematica troppe volte sottovalutata. Poniamo al centro i giovani che insieme agli anziani sono stati più colpiti dalla crisi pandemica sotto ogni punto di vista occupazionale, sociale e psicologico. Al via quindi una nuova strategia delle politiche giovanili che parte dai giovani in un programma di sviluppo fondato su un dialogo virtuoso tra chi si occupa di nuove generazioni e i giovani stessi. Il tavolo è lo strumento aperto di partecipazione per l'ascolto, la condivisione e il confronto per definire le linee di attività delle politiche giovanili e l'attuazione dei futuri piani di intervento come espressione diretta dei territori per individuare gli interventi più utili nel contesto locale, promuovere lo sviluppo territoriale e orientare in maniera sinergica le risorse che si renderanno disponibili. Nell'ottica di favorire una progressiva autonomia dei giovani la giunta regionale si è posta all'obiettivo di costruire, attuare e gestire le politiche giovanili attraverso l'integrazione trasversale delle azioni, la costruzione di interventi organici con i diversi livelli territoriali suscitando esperimenti di territorio capaci di esprimere un patto forte tra i vari soggetti.